Ok bambini, mettiamo tutti le mascherine, bene, adesso dobbiamo spiegare a tutti come ci si deve comportare per non contagiarci più, pronti? Tantiamo la fila strocca, mascherina sulla bocca, coprendoci anche il naso e a un metro poco più. Tantiamo la fila strocca, è guai a chi ci tocca, dobbiamo stare attenti, poi con il per non contagiarci più, per non contagiarci più, eh sì, per non contagiarci più. Lava le mani, lavai spesso, non toccarti il viso, usa già l'intesto, braccia in giù, braccia in su, manda un bacio a chi vuoi tu, rilava le mani per 30 secondi. Ok, ricantiamo tutto da capo per chi non ha ascoltato il testo con attenzione. Tantiamo la fila strocca, mascherina sulla bocca, coprendoci anche il naso e a un metro poco più. Tantiamo la fila strocca, è guai a chi ci tocca, dobbiamo stare attenti, per non contagiarci più. Per non contagiarci, per non contagiarci, per non contagiarci più. Eh sì, per non contagiarci più. Proprio così.